Cari amici, rieccoci qui per un nuovo videoclip, oggi dedicato, come anche ho scritto nel titolo principale, a questo momento storico importantissimo della Dauda Benità, grazie alle due voci storiche da oltre vent'anni, Michele Possa, Luca Franchini, che tra Stim, Sky Sport, Cielo ed ora D-Max e ovviamente anche il nostro apporto nel seguire le loro telecroniche, stiamo raggiungendo un livello davvero molto importante, senza ombra di dubbio dobbiamo citare per esempio la prima storica differita di Vrester Media di un paio di settimane fa appunto sul canale 52 del digitale terrestre, dove ci sono stati ottimi ascolti, invece per la prima storica puntata di ieri live in diretta, sempre su D-Max di SmackDown, in diretta da Lione, non ci sono ancora i dati di ascolto, ma credo che molto probabilmente anche questa volta siamo andati bene, o meglio abbiamo un primo dato indicato sui social dal Godzilla Luca Franchini, che ieri di SmackDown è stato il secondo programma in tendenza tra le varie trasmissioni appunto in linea su Twitter, che dire continuiamo così, io mi auguro chissà di vedere in maniera costante, forse ci stanno lavorando ovviamente non ci possono dire niente al riguardo i Big Four, ovvero Royal Rumble, Presta e Almenia, SummerSlam e Survivor Series, seppure in differita, quindi ancora una volta il duo Posa Franchini fa centro, ovviamente noi siamo chiamati costantemente a seguire appunto i loro capolavori al microfono, c'è su D-Max che a seguirli sui vari social, ovviamente la puntata ieri di SmackDown è stata bellissima, ultima fermata prima di Backlash, primo storico grande evento da sempre dopo Presta e Almenia, quindi inizia praticamente una nuova stagione dalla WWE, noi ci vediamo nelle prossime occasioni, il Bardo e il Godzilla e i Deluxe vi salutano, ciao!